E così doveva arrivare anche a Don Bosco, lo stavamo aspettando, proprio a Natale avevo espresso e condiviso il desiderio di essere come padre felice che nei promessi sposi dà la giusta indicazione ma proprio bella per vivere e passare in mezzo alla peste di Milano e così in qualche modo mi ci ritrovo un pochettino. Ogni tanto sentivo che a Don Bosco c'è un focolaio, non le solite cose, tanti purtroppo di Don Bosco pure sono stati colpiti ma nessuno fino ad oggi aveva preso il covid proprio qui a Don Bosco. Purtroppo questa mattina sono risultati positivi al tampone rapido, domani andranno a fare il mole corale Osman, Alassane e Don Basile. Noi siamo tanti, noi altri siamo tutti negativi, abbiamo fatto tutto il tampone, dobbiamo ringraziare anche un po' il tampone sospeso di Panorama che ci ha dato una mano perché abbiamo fatto in 18 il tampone proprio per verificare e ricarire la mappatura di tutto. Da dove è venuto questo? Che è la prima domanda da farsi. Chissà, forse non lo so. Chi sarebbe dovuto essere l'untore? Questo dovrebbe essere io perché che giro, che mi espongo, per questo sto un po' più controllato. Ma io continuo ad essere negativo, che dobbiamo fare così. Comunque stiamo tutti bene, anche coloro che sono risultati positivi stanno bene. Certo però abbiamo l'indicazione dei 10 giorni di quarantena preventiva e per questo eviteremo sia io che Don Bosco, pur essendo negativi, siccome noi non dormiamo insieme ma ci capita di mangiare insieme, quindi eviteremo di esporci. Per il resto i locali, questa sera mi farò sempre il solito giro, poi avremo con la nostra ditta che ci serve tema service, domani già è prevista una sanificazione e già da oggi tutti i positivi sono stati tutti allontanati, stanno nelle loro case e non case messe a disposizione proprio perché a Don Bosco, anche già da questo momento, non c'è nessuno presente positivo proprio per salvaguardare i locali. La chiesa non è stata toccata e comunque domani la ditta la risanificherà da capo in maniera adeguata. E in questo tempo vi ripeto che questi 10 giorni staremo un po' così, anche i 10 comandamenti che faccio sempre a Santa Teresa li saltiamo questa settimana, li rimandiamo. Chissà, avevo pensato chiuso il capitolo di TikTok con cui dal 20 dicembre fino alle feste, fino al 7 gennaio avevo accompagnato i ragazzi, chissà forse sarà il caso di riprenderli. Non lo so, la cosa che invito è che noi per primi cerchiamo di fare attenzione, i locali all'aperto restano sempre salvaguardati, gli altri che non sono coinvolti, la vita parrocchiale continua e continueremo anche a sentirci. Vi terrò aggiornati se ci fossero ulteriori aggiornamenti, anche oggi il catechismo, ci siamo visti con Google Classroom e riusciamo sempre a stare così in contatto tra di noi. E non posso che condividere con voi quello che diceva Padre Felice, non dimentichiamo i tanti, i tanti morti che sempre brillano nelle nostre notte buie, basta solo alzare un po' gli occhi. Non dimentichiamo che tanti, veramente tanti stanno ancora combattendo, ecco noi combattiamo un pochettino con loro. Non dimentichiamo che se abbiamo un po' di energie ce ne abbiamo per condividerle con chi ci sta vicino, per questo guardiamoci bene attorno. E poi, perdonatemi se non vi abbiamo servito sempre con premura, con dedizione, con quel sorriso che ogni uomo in qualunque situazione sempre merita. Buonanotte a tutti e buon risveglio per continuare a vivere la gioia di amarci qui su questa terra per portarci quest'amore nel cielo per l'eternità. Buonanotte a tutti.